Vi presento una persona, lei è Libby, viene da Israele, è stata mandata da Umix, ha vinto una gara di ballo, vero? Sì, sentito. E' esperta delle nuove tendenze e pensiamo possa dare un buon contributo, soprattutto in vista dello show che ci sarà. Quindi lavorerete alla coreografia insieme a lei. Bene, che bello, allora ballerei benissimo. Canto un po' anche, però ballare è quello che preferisco. Ovviamente Libby ha bisogno di ambientarsi, ok? È la prima volta che viene e non conosce la città. Quindi ho pensato, potrebbe essere una buona idea, se qualcuno dello studio, certo non un professore, andasse a prenderla tutti i giorni in albergo e la portasse qua. Così le può mostrare le nostre attrezzature e le può spiegare qual è il nostro modo di lavorare. Calma. Certo. Qualcuno vuole candidarsi? Un ragazzo o una ragazza? Ehi, bravo. Sì, bene. Ma non mi dice a lui, eh? Andres, coraggio, vieni avanti. Il tuo accompagnatore, lui è Andres e oltre a essere un gran musicista è anche una bravissima persona.